Buonasera, alla fine di febbraio del 1912, mi trovavo a Parigi nel mio appartamento seduta presso lo scrittoio di fronte ad un bel caminetto acceso. Ero immersa nelle mie meditazioni letterarie quando venni invasa da una forza inconscia, la quale mi costringeva a scrivere. Sebbene perplessa, c'è detti all'impulso di quella forza arcana e scrive a chi hai, con non poca difficoltà una lettera di carattere personale firmata Signor X, il quale mi annunciava che sarebbe ritornato a visitarmi. Io rimasi pensuosa per tutta la notte per l'arcano evento e all'indomani mi confidai con una mia amica raccontando l'inispiegabile fenomeno. Ella non si meravigliò affatto del fenomeno avvenuto, ma soltanto che io non sapessi che un famoso magistrato americano, nostro comune amico, veniva confidenzialmente denominato come Signor X, e cioè proprio il misterioso nome dell'autore del messaggio. Qualche giorno dopo ricevetti dall'America una comunicazione con la quale mi si informava che Signor Alt, valente e facoltoso magistrato, era deceduto il 21 febbraio 1912. Nella mia mente si squarciava il velo sul mistero della sopravvivenza dopo la morte e anche sul fatto che i nostri cari defunti desiderano talvolta mettersi in contatto con noi, compresi anche, per la prima volta, che la mia psiche era idonea a manifestare in modo sensibile il fenomeno suddetto. Iniziarono così i colloqui medianici che, dopo alcune difficoltà iniziali, si susseguirono agevolmente per lungo periodo, proprio come avviene quando il maestro detta il compito al scolare. Infatti egli mi riferiva volta per volta i suoi progressi, desiderando con una certa insistenza che le sue esperienze venissero divulgate all'incredulo mondo. Dettata l'ultima lettera, si accomietava in quanto stava per lasciare il mondo eterico per salire nel mondo etereo, dove avrebbe acquisito l'esperienza dell'infinito astrale. Lettera prima. Il ritorno. Sono proprio qui. Non vi sbagliate. Sì, fui io a comunicare con voi qualche tempo fa ed ora torno a farlo. Ho avuto un'esperienza straordinaria. Molto di ciò che avevo dimenticato ora posso ricordarlo. Ciò che è avvenuto e stato per il meglio era inevitabile. La morte. Io posso vedervi quantunque non molto distintamente. Qui non ho trovato quasi oscurità. La luce è meravigliosa, molto più viva di quella del sole dei tropici. Non mi raccapezzo ancora bene qui a Parigi, dove voi vivete dove tutto mi riesce nuovo. Molto probabilmente è utilizzando la vostra stessa energia vitale che sono capace di vedervi in questo momento. Non ditelo a nessuno. Io sono ora di fronte a voi, adagiato sopra un oggetto che è probabilmente un divano. È più facile per me venire a comunicare con voi dopo il tramonto. Nell'andarmene mi è venuto in mente che probabilmente voi mi considereste di comunicare per mezzo della vostra mano. Ora sono già divenuto più forte e posso comunicare più agevolmente. Non vi è nulla da temere in questo cambiamento di condizione. Non posso dirvi per quanto tempo sono stato in silenzio. Non a lungo, mi sembra. Fui io che firmai X. Il maestro mi aiutò a mettermi in comunicazione con voi. Fareste meglio a non dire ad alcuno che sono venuto, ad eccezione di perché non desidero che mi si impedisca di venire e quando e dove voglio. Prestatemi qualche volta la vostra mano e io non ne abuserò. Attenderò fino a che potrò venire con maggiore energia. Attendetemi, ma non per ora. Avrei voluto continuare a dimorare più a lungo nel mio corpo, ma mi sembrò che non ne valesse la pena. Ho visto il mio maestro, la mia guida. Mi sta vicino. Il suo atteggiamento verso di me è molto incoraggiante, ma ora preferisco andarmene. Buonanotte. Custodite la porta. È necessario che prendiate alcune precauzioni per proteggervi da coloro che si stringono attorno a me e altre anime desiderose di comunicare anche di scarsa evoluzione. Non dovete far altro che cercare un'aura portrettrice intorno a voi stessa, sera e mattina. Qualsiasi cosa a voi proibiate alla vostra anima di accogliere non potrà attraversare simile baluardo. Non lasciate che le vostre energie, neppure in piccola parte, vi vengano sottratte da queste larve del mondo astrale. No, esse non possono molestare perché io ora sono abituato ad esse. Quanto a voi, non avete assolutamente nulla da tenere, se avrete la cura di proteggervi. Una nube sullo specchio. Quando rispondete alla mia chiamata, sgomberate la vostra mente come un fanciullo metta alla sua lavagna quando si accinge ad affrontare un nuovo problema o compito dettatogli dal suo maestro. Il vostro più piccolo pensiero personale sarebbe come una nube sopra uno specchio che ne offuschi il riflesso. Voi potete continuare a ricevere queste lettere col sotto mezzo, purché la vostra mente non lavori per proprio conto né cerchi di fare indagini durante la scrittura. Questa volta sono stato fermato come prima dalle entità che mi si radunano intorno, ma dalla vostra curiosità sulla fine di una frase insolita. Voi improvvisamente siete diventata positiva anziché negativa, come se in un ufficio telegrafico l'apparecchio ricevente si mettesse a spedire un messaggio a se stesso. Ho appreso qui la ragione di molti eventi psichici, i quali alle volte mi confondevano, e sono deciso a proteggervi, se possibile, durante la compilazione di queste lettere, dal pericolo delle correnti contrarie. Una sera io veni a comunicare, ma voi non vi siete prestata. Vi pare di essere stata cortese? Ma non ho l'intenzione di rimproperarvi. Verrò di nuovo e ancora di nuovo, finché il mio lavoro non sarà ultimato. Mi manifesterò a voi, tra breve, in sogno, e vi mostrerò molte cose. La promessa di comunicare cose mai dette prima. A suo tempo vi comunicherò alcune cognizioni che ho acquisito dopo aver abbandonato la terra. Io ora vedo il passato come attraverso una finestra aperta, vedo il sentiero per il quale sono passato e posso tracciare il sentiero che intendo percorrere. Ogni cosa ora sembra facile. Potrei fare un lavoro doppio di quello che faccio, tanto mi sento forte. Tinora non mi sono ancora fermato stabilmente in nessun luogo, ma vengo qua e là come mi prende la fantasia. Ciò che io sempre sognai di fare mentre ero incarnato e che mai mi fu possibile. Non temete la morte, ma rimanete sulla terra più a lungo che potete. Nonostante la compagnia che ho qui, talvolta rimpiango di non essermi attaccato di più al mondo. Ma i rimpianti qui hanno come i nostri corpi una pesantezza minore. Qui tutto va bene per me. Vi dirò delle cose mai dette prima. La bacchetta magica della volontà. Voi non arrivate ancora ad afferrare completamente il mistero e la potenza della volontà. Essa può fare tutto che, tutto ciò che desiderate, entro il limite della vostra unità di energia, perché ogni cosa è attiva o potenziale dell'unità di forza chiamata uomo. La differenza fra il pittore e il musico o fra un poeta e un romanziere non è la differenza di qualità dell'entità in se stessa, poiché ogni unità contiene tutto, benché in diversa misura. Ciostante, essa ha la possibilità di svilupparsi in qualsiasi maniera scelta dalla propria volontà. La scelta può essere stata fatta molti secoli addietro, occorre un lungo tempo, spesso molte esistenze, per sviluppare un'arte o una facoltà per un particolare genere di lavoro, a preferenza di tutti gli altri. Il raccoglimento, la concentrazione, sono il segreto del potere, qui come altrove. Riguardo al potere della volontà, nei vostri presenti problemi quotidiani vi sono due vie per adoperarla. Una concentrandosi su uno schema ben indefinito e portandolo a compimento, più o meno a seconda della quantità di forza che si ha a propria disposizione. L'altra, volendo che il migliore, il più alto e il più saggio piano possibile sia realizzato dalle forze subcoscienti in se stessi e negli altri. Quest'ultima linea di condotta dà modo di influenzare tutto l'ambiente per uno scopo particolare, piuttosto che comandare o tentare di comandare parte di esso. In questa comunione fra i due mondi, voi sulla Terra siete inclini a credere che noi qui conosciamo ogni cosa. Voi pretendereste che noi prevedessimo l'avvenire, come gli indovini, e vi tenessimo informati di tutto ciò che avviene o vi vive nell'altro mondo. Qualche volta è vero possiamo farlo, ma normalmente non possiamo. Fra qualche tempo potrò essere in grado di entrare nella vostra mente come potrebbe farlo un maestro e conoscere tutti i vostri pensieri e progetti, ma ora non sempre ciò mi è possibile. Una notte, per esempio, cercai dappertutto l'amico B e non potevi trovarlo. Probabilmente è necessario che vi pensiate fortemente a noi per facilitarci il compito. Io continuo sempre ad imparare. Il maestro è molto attivo nel aiutarmi. Quando sarò assolutamente sicuro della mia completa influenza sulla vostra mano, avrò modo di dire sulla vita di quello che voi definite al di là. Una luce dietro il velo. Cercate di aprire uno squarcio nel denso velo di materia che vi separa dai miei occhi. Io vi vedo sovente come uno spazzo di vivida luce e ciò avviene probabilmente quando la vostra anima è brillante di emozione, oppure quando la vostra mente si acutizza nel pensiero. Occasionalmente posso leggere i vostri pensieri, ma non sempre. Spesso cerco di accostarmi a voi, ma non sempre riesco a trovarvi. Forse anche voi, se venite in questa dimensione, non sareste in grado di trovarmi immediatamente. A volte sono tutto solo, a volte mi trovo con altri. È strano, ma ora mi sembra di avere un corpo abbastanza solido, quando che le mie braccia e le mie gambe sembrino allungarsi in tutte le direzioni. Generalmente non cammino come prima, ne posso dire di volare, perché non sono dotato di ali, ma attraverso lo spazio con incredibile rapidità. Qualche volta però mi muovo come camminando. Ora vi chiedo un favore. Voi sapete quante difficoltà io avessi sulla terra a mandare avanti il mio lavoro? Eppure vi riuscivo. Non vi scoraggiate dunque, se vi mancano alcuni elementi per il vostro lavoro. Andate avanti come se aveste i materiali occorrenti, vedrete che li troverete. Scoprirete così che potete seguire questo compito in modo o nell'altro. Non siate debole e incerta, perché altrimenti mi trascinate indietro sulla terra per forza di attrazione. Ciò è per noi altrettanto dannoso che affliggersi per i defunti, nei ceppi della materia. In colui che vive nel cosiddetto invisibile, sorge ad un tratto un improvviso ricordo della terra. Oh, e gli dice, il mondo va avanti senza di me. Che cosa mi sto perdendo? Sembra quasi un'impertinenza da parte del mondo andare avanti senza di lui. Egli diventa agiato, temendo di essere lasciato in disparte. Guarda, intorno a sé vede soltanto i tranquilli spazi della quarta dimensione. Oh, trovarsi di nuovo fra i ceppi della materia e poter stringere qualcosa fra le mani. Quel pensiero ritorna con sempre maggiore forza. Egli si sente spinto ad usci fuori nell'ambiente sottile e penetrare nel mondo resistente della materia. Ma come? Egli ricorda. Ogni azione proviene dalla memoria. Sarebbe un esperimento arrischiato se non l'avesse fatto un'altra volta. Egli chiude gli occhi, tolgendo le spalle all'invisibile, viene attirato presso la vita umana e presso gli esseri umani nell'intensa vibrazione del desiderio dell'unione. In questo mondo eterico vi è affinità. Forse è l'affinità di passare esperienze con le anime di coloro con le quali egli ora è a contatto, o forse soltanto l'affinità del temperamento e dell'immaginazione. Comunque sia, egli si lascia sfuggire alla propria libertà pur di obbliarsi nella vita degli esseri umani, desiderando tornare ad incarnarsi. Dopo un certo tempo di veglia e con occhi attoniti, guarda i verdi campi e le concrete e solide facce degli uomini e delle donne. Qualche volta piange e desidera tornare indietro. Se egli si scoraggia può ritornare nel nostro mondo per poi ricominciare da capo la faticosa ricerca della materia. Se invece è forte e ostinato, rimane nel vostro mondo e diventa un uomo. Ma egli può anche convincersi, una volta divenuto uomo, che la precedente vita nella sostanza sottile era soltanto un sogno, poiché in sogno egli ritorna. Il sogno lo perseguita ha disturbato il suo godimento di trovarsi nella materia. Dopo anni ed anni egli si stanca della lotta con la materia e la sua energia si esaurisce, allora cade nuovamente fra le braccia dell'invisibile e gli uomini dicono tra loro sommessamente che è morto. Ma egli non è morto. È soltanto tornato da donde era venuto. Dove le anime salgono e scendono. Amica, nulla vi è da temere dalla morte. Non è una cosa più difficile che fare un viaggio all'estero. Come il primo viaggio che dovesse fare una persona già avanti negli anni, schiava delle proprie abitudini e forse costretta ad abbandonarle. Quando un uomo arriva qui, coloro che incontrano gli sembrano più strani di quanto gli possano sembrare sul momento i popoli fra cui si ricasse per la prima volta. Non sempre egli può comprenderli e anche sotto questo riguardo è proprio come se si trattasse di un soggiorno in un paese straniero. Poi, dopo un po', egli incomincia a farsi animo e a sorridere con gli occhi. La domanda da dove venite provoca la stessa risposta che sulla terra. Tal'uno viene dalla California, altri da Boston e altri ancora da Londra. Ciò si verifica quando si incontra sulle grandi vie, poiché qui vi sono, come sulla terra delle strade per le quale le anime salgono e scendono. Tali vie sono, generalmente, le comunicazioni più dirette fra i due grandi centri, ma esse non si trovano mai presso una linea ferroviaria dove vi sarebbe troppo rumore. Noi possiamo dire i rumori che si producono sulla terra, essendo vibrazioni che trasmettono il suono all'orecchio eterico. Talvolta qualcuno si stabilisce per lungo tempo in un dato luogo. Io visitai una vecchia casa nello stato del Maine, dove un uomo già appartenente a questo mondo si era trattenuto non so per quanti anni. Egli mi raccontò che i bambini erano divenuti uomini e donne e che un poledro al quale si era affezionato, diventato cavallo, era morto di vecchiaia. Anche qui vi sono dei pigri e degli ottusi come da voi. Vi sono però anche persone spiritose e attraenti, la cui sola presenza fa ringiovanire. Sembra quasi assurdo dire che portiamo dei vestiti, proprio come fate voi, soltanto che non ne abbiamo bisogno di tanti. Non ho veduto pauri, ma d'altra parte sono arrivato qui da poco tempo. Ormai non mi importa granché del caldo e del freddo, ma rammento che sulle prime soffrivo alquanto a causa del freddo. Un appuntamento nella quarta dimensione. Voi potreste fare così tanto per me, prestandomi qualche volta la vostra mano, che mi meravigliano un poco della vostra eluttanza. Questo genere di filosofia continuerà ad essere insegnato in tutto il mondo. Soltanto pochi arriveranno in questa vita a concepirne la profondità, ma un seme, gettato ora, potrà dare il frutto dopo molto tempo. In qualche posto io lessi che alcuni grani di frumento, dopo essere rimasti sepolti con le mummie per due o tre mila anni, seminati ai nostri giorni in terreno adatto, hanno germogliato regolarmente. Lo stesso può dirsi del seme filosofico. È stato detto essere uno storto colui che lavora per la filosofia, invece di lasciare che la filosofia lavori per lui. Ma un uomo non può dare al mondo una piccola semenza di vera filosofia senza raccoglierne lui stesso una messe di gran lunga maggiore. E voi conoscete il versetto della Bibbia che finisce con le parole, e nel mondo avviene la vita eterna. Per ricevere occorre dare, questa è la legge. Sono in grado di dirvi molte cose relativamente alla vita che qui si conduce e che potranno riuscire utili ad altri quando dovranno effettuare il grande passaggio. Quasi tutti conservano la memoria. La maggior parte degli uomini e delle donne con cui mi sono trattenuto hanno conservato dei ricordi più o meno vivi della loro vita terrestre. Ho incontrato un uomo che rifiutava di parlare della terra e parlava sempre di andare avanti. Gli rammentai che a forza di andare avanti egli sarebbe ritornato allo stesso luogo donde era partito. Forse sareste curiosi di sapere se e che cosa si mangia e se si beve qui. Certamente siamo nutriti e sembra che assorbiamo molta acqua. Voi pure dovreste bere molta acqua poiché essa nutre il corpo astrale. Non credo che un corpo molto asciutto possa mai avere una forte vita mentalità astrale tale da poter prestare la sua mano ad un'entità di questo mondo come fate voi ora. Gli è molta umidità nei nostri corpi e forse questa è una delle ragioni per cui il contatto con il cosiddetto spirito dà un senso di freddo alle persone di sangue caldo facendole rabbrividire. Occorre un certo sforzo da parte mia per scrivere come faccio attualmente ma mi pare che ne valga la pena. Io mi reco nel luogo dove sento che vi troviate potendo vedere voi e gli altri. Poi mi ritiro cioè invece di immeggermi meglio in me stesso come facevo prima mi spingo fuori con grande forza nella vostra direzione e prendo possesso di voi con grande sforzo propulsivo. Talvolta la scrittura si è fermata nel bel mezzo di una frase ciò avveniva perché io non ero sufficientemente concentrato. Avete notato che quando vi concentrate e vi isolate dal mondo esterno basta un rumore improvviso oppure un pensiero vagante per ridurvi a posto. Succede lo stesso anche qui. Quanto all'elemento in cui viviamo senza dubbio esso occupa un posto nello spazio trovandosi tutto attorno alla terra. Ogni albero visibile ha la sua controparte invisibile. Quando voi prima di addormentarvi venite consciamente in questo mondo nota questo indubbiamente si riferisce alle mie visioni vedete cose che realmente esistono o che sono esistite anche nel mondo materiale. In questo mondo non potete vedere nulla che non abbia la sua controparte fisica nell'altro. Vi sono naturalmente forme pensiero e quadri immaginari ma lo scoggerli in forma di immagine non significa appunto vederli sul piano astrale. Le cose che vedete prima di addormentarvi hanno un'esistenza reale e variando la vostra intensità di vibrazione entrate in questo mondo o per dir meglio vi racchiudete in esso poiché per potervi rendere libera occorre che vi ci rinchiudate. L'immaginazione ha una forza straordinaria. Se voi vi create una figura sulla mente le variazioni del corpo potranno produrvi all'unisolo con essa. Qualora la volontà sia spinta in quella stessa direzione ad esempio i pensieri di salute o di malattia. Per fare una prova sarebbe bene quando desiderate venire qui animicamente che sceglieste un simbolo qualsiasi e lo teneste dinanzi agli occhi. Non affermo che ciò possa sicuramente aiutarvi a variare le vibrazioni ma potrebbero farlo. Ritengo che potreste vedermi qualora proprio prima di addormentarvi. Veniste qua con tale pensiero desiderio dominante nella vostra mente. Sono forte oggi perché sono stato a lungo con uno che è più forte di me e se volete tentare l'esperimento di cercarmi questa notte potrò prestarvi maggior aiuto del solito. Vi sarebbe tanto da dire e raramente posso parlarvi. Se voi aveste un'altra posizione sociale e foste libera da altri impegni potrei venire più sovente. Sto imparando molte cose che avrei piacere di comunicarvi ad esempio ritengo che potrei indicarvi come uscire consciamente dal corpo fisico come fanno comunemente i maestri. Sulle prime prevedo solo il vostro braccio per scrivere ma ora in possesso meglio della vostra organizzazione psichica. Mi ero accorto che non lavoravo nel modo migliore e che mi era uno spreco di energia per cui mi rivolsi al maestro per istruzioni. Con questo nuovo metodo voi vi stancherete meno ed io pure. Ora me ne vado. Fra qualche minuto però farò il possibile per incontrarvi. Se l'esperimento non riesce non scoraggiatevi ma provate nuovamente un'altra volta. Se riuscite a vedermi mi riconoscerete certamente. Il ragazzo Leonello. Mi interesserà sapere che anche qui come sulla terra vi sono persone che si dedicano al bene degli altri. Vi è persino una grande associazione di anime costituitasi in una sorta di confraternita a un gruppo organizzato. Il loro lavoro particolare consiste principalmente nell'aiutare i nuovi arrivati a racchepezzarsi e ad adattarsi alle nuove condizioni. Di tale associazione fanno parte entità d'uomini e donne che rendono ottimi servizi. Operano su un piano non direi più alto ma più intellettuale di quello dell'esercito della salvezza esistente sulla terra e aiutano tanto gli adulti che i bambini. Sono molto interessanti i bambini. Finora non ho avuto il tempo di osservare bene tutte queste cose da me ma un membro del gruppo mi informa che riesce molto più facile ai bambini ad adattarsi al cambiamento di esistenza che non agli adulti. I vecchi sono disposti a dormire molto mentre i bambini conservano un gran cambiamenti violenti. I piccoli mi si dice crescono gradatamente e quasi impercettibilmente come avrebbero fatto sulla terra essendovi una tendenza ad uniformarsi all'andamento normale benché vi siano dei casi in cui l'anima si reincarna presto dopo pochissimo riposo il che vi si verifica quando è spinta da molta curiosità e da forti desideri. Anche qui vi sono delle cose orribili più orribili ancora di quelle esistenti sulla terra. La putedrine causata dal vizio e dalla obbriachezza qui è peggiore che da voi. Ho veduto facce e forme spaventose facce che sembravano mezzo putrefatte e cadenti a brandelli. Questi sono i casi disperati che sono abbandonati al loro destino perfino dagli stessi membri del gruppo sopra accennato. Non saprei dirvi quale sarà il destino di tali esseri e se potrà non o no reincarnarsi nel presente ciclo. Come sono i deliziosi fanciulli? Bene uno che spesso viene da me. Mi chiama papà e sembra che gli faccia gran piacere la mia compagnia. La mio parere avrà l'incirca 13 anni e si trova qui già da qualche tempo. Non ha saputo dirmi precisamente da quanto ma gli domanderò se si ricorda in quale anno è arrivato. Non è vero che noi non possiamo nascondere i nostri pensieri quando intendiamo farlo. Conoscendo il modo possiamo nascondere i nostri segreti e cioè o per suggestione o per mezzi di incantesimi però leggere nella mente altrui molto più facile qui che non sulla terra. Comunichiamo fra noi all'incirca nello stesso modo come fate voi ma con l'andar del tempo trovo che sia più facile conversare per mezzo del pensiero proiettato intensamente che non con le parole. Sulle prime aprivo sempre la bocca quando desideravo parlare mentre ora mi riesce più facile non farlo benché di quanto in quanto ciò mi capita ancora per abitudine. Un nuovo arrivato non più non può intendersi con gli altri se non parlando effettivamente finché non scopre che può esprimersi ugualmente senza sprecare il fiato. Ma io vi stavo parlando del ragazzo. Egli si interessa grandemente di alcune cose che gli raccontò della terra specialmente degli aeroplani che non erano ancora perfezionati quando egli giunse qui. Egli sente il vivo desiderio di tornare sulla terra per poter volare in aeroplano. Gli fece osservare che può volare benissimo anche qui senza bisogno di tale apparecchio ma ce no gli sembrava la stessa cosa. Gli vuole mettere le dita sopra un meccanismo. Io gli consiglio di non avere troppa fretta a tornare indietro. Lo strano è che egli rammenta le altre sue precedenti esistenze passate sulla terra. Molti di coloro che si trovano qui non hanno maggior memoria delle vite passate anteriori all'ultima di quelle che ne avevano quando si trovavano sulla terra. Questo non è un luogo dove tutti sappiano ogni cosa, tutt'altro. La maggior parte sono altrettanto ignoranti quanto lo erano sulla terra. In una delle sue incarnazioni precedenti il ragazzo è stato un inventore. Questa volta mi dice che è venuto qui in seguito ad un infortunio. Io ritengo che dovrebbe star qui ancora un po' per procurarsi un ritmo più forte per il ritorno. Questo secondo la mia opinione. Mi interessa tanto questo ragazzo che vorrei trattenerlo presso di me e forse ciò influisce a quanto sul mio giudizio. Come vedete siamo ancora umani. Mi avete fatto delle domande, vero? Fatele ad alta voce, io posso dirvi. Sì, mi sento molto più giovane di quanto mi sia sentito da qualche tempo. E sto bene. Sulle prime mi sentivo all'incirca come durante la mia malattia, talvolta oppresso e talvolta sollevato. Ma ora sto bene e il mio corpo non mi dà a grande disturbo. Io credo che i vecchi qui ringiovaniscano retrocedendo fino a tanto che abbiano nuovamente raggiunto l'età migliore che poi conservano per lungo tempo. Come vedete non sono diventato onnisciente. Ho potuto ora acquistare buona parte della cognizione che avevo dimenticato ma relativamente a tutti i particolari di questa vita molto mi resta ancora da imparare. La curiosità da parte vostra mi sarà di incentivo per studiare le condizioni e per fare indagine che altrimenti mi sarebbero sfuggite per lungo tempo, se non per sempre. Vi sono pochi qui che imparino qualcosa. La maggior parte si ingegna solo di trovare il modo migliore e più comodo per tirare avanti, precisamente come sulla Terra. Sì, ci sono delle scuole qui dove chiunque desidera istruzioni può riceverla se ne è in grado, ma vi sono soltanto pochi gradi i maestri. Salvo casi eccezionali, l'insegnante di scuole superiori qui, come sulla Terra, non è un grande scienziato. Il mondo degli archetipi Devo anzitutto modificare quanto dissi l'altro giorno, che cioè non vi è nulla qui che non sia già esistito sulla Terra. Ho potuto infatti constatare che tale affermazione non è del tutto conforme alla verità. Infatti vi sono qui parecchi strati e nello stato più basso, quello cioè più prossimo alla Terra, tutto, o quasi tutto, ciò che esiste ha avuto forma nella maniera densa della stessa Terra. Scostandomi alquanto, andando più in alto, non saprei dirvi precisamente a quale altezza, l'altra notte esplorando entrai nel mondo dei modelli, chiamiamoli così, delle cose che dovranno apparire sulla Terra. Ho veduto forme di cose che, per quanto ne sappia, non sono mai esistite sul vostro pianeta. Alcune invenzioni, per esempio. Vidi ali che l'uomo può attaccare su di sé. Vidi pure nuove forme di macchine per volare. Vidi modelli di città e torri munite di strane sporgente a forma di ali che non so spiegarmi a che cosa possono servire. Evidentemente è appena iniziato il progresso delle invenzioni meccaniche. Un'altra volta cercherò di adentrarmi sempre di più in quel mondo dei modelli e vedrò se mi sarà dato di scoprire altre cose. Tenete presente che io vi faccio semplicemente dei racconti, come potrebbe farvi un viaggiatore terrestre delle cose che vede, il che non toglie che la mia interpretazione possa essere errata. Quando mi recai nel luogo che ho definito il mondo dei modelli, non incontrai che qualche viaggiatore solitario al pari di me. Da questo io, naturalmente, arguisco che soltanto pochi di coloro che lasciano la Terra si recano fin lassù. Da quanto ho potuto vedere e dalle conversazioni scambiate con anime di uomini e donne, ritengo che la maggior parte non si allontana dalla Terra. È strano, ma sembra che molti vivano in un paradiso ortodosso, vestiti di bianco, con un corone sul capo, cantando e tenendo arpe fra le mani, in uno stato insomma che corrisponde a ciò che comunemente viene chiamato il paradiso. Vi eppure mi si dice un inferno ardente dal quale emana perlomeno l'odore di zolfo, ma finora non mi sono andato. Un giorno, quando mi sentirò forte e se mi verrà permesso, vi farò una visita, e se non sarà troppo soffocante, mi ci inoltrerò. Giro di qua e di là e finora non ho studiato attentamente alcuna religione in particolare. Ieri ho condotto con me il ragazzo che si chiama Lionello. Forse anziché ieri, dovrei dire ieri notte, forse il vostro giorno corrisponde alla nostra notte, quando ci troviamo nella parte di questa grande sfera concava rivolta verso la Terra. Voi, alla Terra solida vi trovate nel centro della nostra sfera. Siamo andati a fare ciò che voi chiamate una passeggiata. Prima di tutto siamo andati nel vecchio quartiere di Parigi, dove io ho vissuto in una precedente incarnazione, ma Lionello non poteva vedere nulla e quando io gli indicavo certi fabbricati mi domandava angelamente se stavo sognando. Devo essere in possesso di qualche facoltà che non è generalmente sviluppata nei miei compagni nel mondo astrale. Cosicché, visto che il ragazzo trovava che Parigi non era che un'invenzione della mia mente, egli aveva trascorso la sua vita a Boston, lo condusse a vedere il paradiso. Egli osservò. Questo deve essere il luogo in cui mi parlava la mia nonna, ma allora dov'è Dio? Questo non sapevo dirglielo, ma osservando nuovamente ci accorgemmo che quasi tutti rivolgevano lo sguardo nella stessa direzione. Noi pure guardamo insieme agli altri e scorgemmo un grande splendore, come di un sole, ma più tenue, meno abbagliante del sole. Ecco, dissi il ragazzo, che cosa vedono coloro che vedono Dio? E ora ho qualche cosa di strano da dirvi, poiché mentre fissavamo quella luce, tra noi ed essa si forma una figura simile a quella che noi siamo usi a rappresentare con il sembiante di Cristo. Egli sorrise alla gente, tendendo verso di loro le sue braccia. Poi la scena cambiò e vidi che egli teneva un agnello sul braccio sinistro e che stava eretto sopra un monte trasfigurato. Egli parlò impartendo insegnamenti alla moltitudini e poi svanì nel nostro sguardo. Forme reali e irreali. Nei primi tempi del mio soggiorno qui, le cose che vedevo mi interessavano talmente che non mi curavo di approfondire le indagini su di esse. In seguito però, e dopo aver scritto l'ultima e la penultima lettera, incominciai a notare una certa differenza fra vari oggetti che a prima vista sembravano composti dalla stessa materia. Per esempio, ora posso talvolta rilevare una differenza tra quelle cose che senza dubbio sono già esistite sulla Terra, come forme di uomini e donne, ed altre cose le quali, pur essendo visibili e di un'apparente consistenza, possono essere e probabilmente saranno con certezza creazioni del pensiero. Tal'idea mi venne mentre osservavo i drammi del paradiso ed essa prese maggior consistenza in me durante altre recenti esplorazioni nella regione che ho denominato il mondo dei modelli. Può darsi che in seguito io possa fare a prima vista la distinzione fra due categorie di oggetti. Ad esempio, se incontro qui un essere o ciò che sembra un'entità, se mi si dice che costrui qualche celebre personaggio da romanzo come Jean Vanjean del libro I Miserabili di Victor Hugo, avrò ragione di ritenere che ho veduto una forma pensiero dotata di una quantità di vitalità sufficiente per alimentare una vita propria, come se fosse quasi un'entità di questo mondo di materia sottile. Finora però non ho incontrato alcuno di simili personaggi. Naturalmente, qualora non potessi conversare con un essere o forma, ne vedrei altri farlo. Non potrei asserire che egli abbia un'effettiva o reale esistenza. D'ora in annanzi farò delle controprove in questa maniera. Se mi riuscirà di parlare con un'entità apparente e ottenerne una risposta, avrò ragione di credere che essa sia una realtà. Un personaggio immaginario o qualsiasi alta creazione mentale, per quanto vivido come immagine, non avrebbe anima né unità di forza né un ser reale. Cercherò di sottoporre a questa prova qualunque cosa mi si presenterà semplicemente come un'immagine. Se vedendo una forma speciale di albero o animale potrò toccarla e sentirla, poiché i sensi qui sono altrettanto acuti che sulla terra, allora mi persuaderò che essa esiste realmente nella materia sottile di questo piano. Credo che quasi tutti gli esseri che ho veduto qui sono reali, ma se ne troverò qualcuno che non posso sentire quando lo toccherò con le mani e che non può rispondere alle mie domande, avrò la conferma che le forme pensiero, tanto degli esseri che delle cose, possono avere sufficiente coesione da sembrare reali. Senza dubbio è vero che non vi è spirito senza sostanza né sostanza senza spirito, latente o manifesto, ma a una certa distanza l'immagine di un individuo può sembrare l'individuo stesso. Possono qui avere esistenza le forme pensiero concepite e create a tale scopo? Io credo di sì. Per una tale forma pensiero però occorrerebbe una forte intensità energetica, perché possa persistere nella sua consistenza. Mi sembra però che prima di continuare a parlare di tale argomento fare meglio a rendermene edotto io stesso. In un foglio di Paracelso. L'altro giorno chiesi al mio maestro di mostrarmi gli archivi, qualora esistessero, in cui coloro che qui hanno vissuto hanno registrato le loro osservazioni. Egli disse, eri un gran lettore di libri sulla terra, vieni. Entrammo in un vasto edificio simile ad una biblioteca e mi mancò il respiro per la grande meraviglia. Non fu l'architettura dell'edificio che mi colpì, ma la sagrande quantità di libri e fascicoli. Ve ne dovevano essere milioni. Domandai al maestro se tutti i libri erano qui. Egli sorrise e rispose, non ce n'è abbastanza? Puoi fare la tua scelta. Chiesi se i volumi erano ripartiti a seconda delle varie materie in essi trattate. Sono messi per ordine, mi rispose. Ma che cosa desideri vedere? Rispose che avrei desiderato vedere libri in cui fossero narrate le esplorazioni fatte da altri uomini in questa regione per me finora poco conosciuta. Ve gli sorrise di nuovo e prese da uno scaffale un grosso volume. Era stampato a grandi caratteri neri. Chi ha scritto questo libro? Domandai. Di è la firma? Egli replicò. Guardai nell'ultima pagina e vedi infatti una firma. Era quella di Paracelso. Quando l'ha scritto? Poco dopo essere giunto qui, l'infolio fu scritto dopo il suo trapasso dalla terra, dopo l'incarnazione durante la quale portava il nome di Paracelso, giacché in seguito si incarnò di nuovo con l'altro nome. Il libro che io avevo esaminato era un trattato sugli spiriti umani, angelici ed elementali. esso comincia con il definire lo spirito umano come uno spirito il quale abbia avuto esperienza di vita in forma umana. Lo spirito elementale come uno spirito di più o meno sviluppata autocoscienza che ancora non ha avuto la cosiddetta esperienza di vita in forma umana. E infine l'angelo come uno spirito di ordine elevato il quale non aveva avuto e anzi probabilmente mai avrebbe avuto una simile esperienza nella materia fisica. Proseguendo, afferma che gli spiriti angelici erano divisi in due gruppi ben distinti, il celestiale e l'infernale. Il primo formato da quegli angeli che lavorano in armonia con le leggi divine e gli altri che lavorano in senso contrario. Ma soggiungeva che entrambe queste categorie di angeli erano necessarie le une e le altre, poiché se tutto fosse stato perfetto l'universo avrebbe cessato di esistere. Lo stesso bene cesserebbe di esistere se la mancanza del suo opposto, il male. Soggiungeva che negli archivi delle regioni angeliche erano registrati casi in cui un angelo buono era divenuto cattivo e uno cattivo divenuto buono, ma simili casi si erano avverati raramente. Egli allora raccomandava a coloro che si trovavano nella stessa regione in cui egli si trovava, mentre scriveva a quanto sopra e alla quale pure io appartenevo, di non mantenere relazioni con lo spirito del male. Affermava che nella vita astrale vi erano maggiori tentazioni che non nella vita terrestre, che egli stesso era stato sovente assalito da angeli maligni che lo eccitavano a unirsi a loro e che gli argomenti che essi aducevano erano estremamente convincenti. Diceva che durante la sua vita sulla terra aveva avuto spesso conversazioni con spiriti, tanto buoni che cattivi. Amai aveva avuto, per quanto era sua conoscenza, relazioni con un angelo di natura maligna. Avvertiva i suoi lettori che vi è un mezzo per distinguere se un essere del mondo astrale sia un angelo soltanto uno spirito umano, oppure un elementale, cioè per mezzo del maggior splendore della luce che circonda un angelo. Diceva che tanto i buoni quanto i cattivi angeli sono supermamente brillanti, ma che fra di loro vi è una differenza che risalta a prima vista, ossia che gli occhi degli angeli celesti sono risplendenti di amore e di intelligenza, mentre quelli degli angeli infernali sono ripugnanti a vedersi. Diceva poi che ad un angelo infernale è possibile trasformarsi ed apparire agli occhi di un mortale come un angelo di luce e quindi ingannarlo, ma che è impossibile per un angelo in genere nascondere la propria natura verso quelle anime che vivono nel corpo eterico. Forse dirò di più in questo angormento un'altra volta. Ora ho bisogno di riposare. Una toga romana. Ciò che rende tanto interessante per me questo mondo è la mancanza di convenzionalismi. Non vi sono due persone vestite nell'identico modo, o per meglio dire, molti sono vestiti in maniera così eccentrica che la loro presenza rende l'insieme molto vario. I miei abiti sono ordinariamente simili a quelli che portavo sulla terra. Quantunque gli si dia il caso che, quando concentro il mio pensiero su una delle tante vite trascorse sulla terra, io indossi, a semplice titolo di prova, gli abiti che usavo in quelle epoche. È facile qui avere i vestiti che si desiderano, ma non so come mi sono ritrovato in possesso degli abiti che portavo al mio arrivo in queste regioni. Però, quando incominciai a informarmi su queste cose, mi trovai abbigliato all'incirca come al solito, per quanto non sia ancora ben sicuro di aver portato i miei abiti con me. Ci sono molti qui che indossano costumi di tempi antichi. Non intendo con ciò affermare che essi dimorino qui da quelle lontane epoche, ma credo che indossino tali vestiti perché ciò riesce di loro gradimento. Normalmente la maggior parte delle persone stanno vicino alle località in cui vissero sulla terra. Io però sono stato un girovago fin dal principio. Mi reco con la massima rapidità da un luogo all'altro. Una notte o un giorno per voi, io posso fermarmi in America e la notte successiva a trovarmi a Parigi. Ho trascorso ore di riposo sul divano del vostro salotto e voi non avete mai notato la mia presenza. Non crediate tuttavia, da ciò che ho ora detto, che per me sia necessario avere delle materie solida su cui potermi riposare. Niente affatto. Noi invece possiamo riposare nella sostanza astrale del nostro mondo. Un giorno, poco tempo dopo essere giunto qui, vidi una donna vestita in costume greco e le domandai dove lo avesse preso. Me li sposi ad averlo fatto essa stessa. Le chiesi come ed ella rispose, ecco, formo prima un modello col mio pensiero e allora esso diventa un vestito. E l'avete cucito punto a punto? No, non come avrei fatto sulla terra. Guardai attentamente e notai che l'intero vestito sembrava tagliato in un sol pezzo e che era fermato sulle spalle da gioielli forgiati ad uso fermaglio. Chiesi dove avesse preso tale specie di ferraio e mi rispose di averlo ricevuto da un amico. Domandai allora dove tale amico l'avesse preso. Disse che non lo sapeva ma è che io l'avrebbe chiesto. Poco dopo ella mi lasciò ed allora in poi non l'ho più riveduta, così che la mia domanda è rimasta finora senza risposta. Incominciai pertanto a fare delle prove per vedere se anch'io fossi riuscito a fare dei vestiti. Fu allora che concepì l'idea di indossare una toga romana, ma in fede mia non riuscivo a ricordarmi come fosse fatta una toga romana. Quando però in seguito incontrai il maestro e gli espressi il desiderio di portare una toga fatta da me, egli mi insegnò con molta precisione come creare un abito forgiato come desideravo. Occorreva cioè scegliere il modello, concepirlo chiaramente nella mente, fissarlo intensamente e poi, per mezzo della potenza della volontà, attrarre la materia eterica sottile del mondo pensiero interno al modello e così formare realmente l'abito. Allora io dissi, la materia del mondo pensiero, come voi la chiamate, non è per esempio dello stesso genere di quella di cui è formato il mio corpo? In ultima analisi rispose, vi è soltanto una specie di materia in entrambi i mondi, ma vi è una grande differenza nelle vibrazioni e nella densità. Ora la sostanza pensiero con cui i vostri apiti sono fatti sembra sia una forma di materia estremamente sottile, mentre i nostri corpi sembrano siano di materia abbastanza solida. Noi non ci sentiamo affatto come se fossimo degli angeli trasparenti in nuvole vaporose. Se non fosse per la rapidità con cui attraverso lo spazio crederei qualche volta che il mio corpo sia ancora solido come lo era sulla terra. Io posso vedervi spesso ed a me siete voi che sembrate eterea. È sempre la vecchia questione, suppongo, di sapersi adattare all'ambiente. Da principio non potevo farlo e incontravo qualche difficoltà nello stabilire la quantità di energia occorrente per ogni azione particolare. Qui occorre una così piccola quantità di energia per muoversi che nei primi tempi, quando mi incamminavo per fare pochi passi, mi trovavo subito distante un miglio, ma ora mi so regolare molto meglio. Occorre pertanto che qui io faccia una buona provvista di energia per la ben dura vita che dovrò trascorrere quando tornerò di nuovo sulla terra. Il lavoro più faticoso che attualmente faccio è quello di venire a scrivere attraverso la vostra mano, ma voi presentate una resistenza sempre minore man mano che andiamo avanti. in principio esso richiedeva tutte le mie forze, ora invece necessita solo di uno sforzo relativamente piccolo. Però non potrei durare a lungo senza adoperare la vostra stessa energia vitale, ciò che io non voglio fare. Voi stessa avete constatato che ora, dopo aver scritto, non vi sentite più così stanca come le prime volte. Ma io parlavo della mancanza di convenzionalismi che qui esiste. Le anime si salutano a vicenda quando lo vogliono, senza tante cerimonie. Ho visto qualche vecchia donna che aveva timore di parlare con uno sconosciuto, ma probabilmente ella si trovava qui da poco tempo ed era ancora lì già alle abitudini della terra. Non crediate però che qui la società sia del tutto libera e facile. Non è così, ma uomini e donne non sembra abbiano così timore gli uni degli altri come quando erano sulla terra. Una cosa che deve essere dimenticata. Voglio dire una parola a coloro che si trovano vicini alla morte. Voglio raccomandare loro di dimenticare il loro corpo al più presto possibile, dopo il cambiamento che si chiamano morte. La terribile curiosità di ritornare indietro e guardare quella cosa che noi un tempo credevamo fosse noi stessi. Questo pensiero ci assale di tanto in tanto con tale forza che essa ha, per così dire, il sopravvento sulla nostra volontà e ci spinge verso di esso. Per molti diventa un'ossessione morbosa da cui non saranno liberati finché rimane un lembo di carne attaccato alle ossa quale un tempo si tenevano in piedi. Dite loro di dimenticare completamente il loro corpo, di rivolgere altrove i loro pensieri e di andare liberi verso l'altra vita. Il guardare indietro nel passato è bene talvolta, ma è bene soprattutto dimenticare quella reliquia del passato. È molto facile guardare dietro la vara, perché il corpo che ora abbiamo è in se stessa una luce nell'oscurità e può penetrare in qualsiasi materia più densa. Io stesso qualche volta sono ritornato indietro, ma ho deciso di non farlo più. Eppure, qualche giorno, me ne potrà avvenire di nuovo il pensiero con tale insistenza da dover resistere alla tentazione di andare a vedere in che stato esso si trova. Non voglio impressionarvi né farvi pena, ma solo darvi un avvertimento. È triste assistere allo spettacolo che si vede nel sepolcro. Ecco perché molte anime che si trovano qui da poco tempo sono così melanconiche. Esse ritornano ripetutamente al luogo dove non dovrebbero andare. Voi sapete che qui, se noi pensiamo intensamente ad un luogo, abbiamo la possibilità di trovarci là. Il corpo che noi possediamo è così leggero che può seguire il pensiero quasi senza sforzo, quindi è sconsigliabile pensare di andare a rivedere il proprio corpo. Un giorno, mentre passeggiavo in un biale alberato, poiché anche qui abbiamo degli alberi. Incontrai una donna di alta statura, vestita di un lungo abito nero. Ella piangeva, dal momento che abbiamo lacrime anche qui. Le domandai perché piangesse, ed ella, avvolgendo verso di me gli occhi pieni di ineffabile tristezza, sono tornata presso di lui, mi disse, riferendosi al proprio corpo. Il mio cuore soffrì per lei, poiché comprendevo quanto grande fosse la sua sofferenza. Ogni volta si risente l'impressione della prima vista, perché la cosa che si vede diventa sempre più diversa da quella che noi vorremmo diventasse. Mi ricordo spesso di quella donna di alta satura, vestita di nero, che passeggiava piangendo sul biale alberato. Ciò che ci spinge dietro verso il cadavere è in parte la curiosità, in parte l'attrazione magnetica, ma ciò non può fare alcun bene, è meglio dimenticare. Qualche volta ho desiderato, per semplice interesse scientifico, domandare al ragazzo Leonello se egli è mai tornato indietro verso il suo corpo, ma non glielo ho mai chiesto nel timore di fargliene nascere l'idea. Egli è di una curiosità così inquieta. Forse coloro che sono venuti i fanciulli hanno un minor grado di noi tale morboso istinto. Se noi, mentre siamo sulla terra, potessimo soltanto ricordare che la forma che noi chiamiamo noi stessi non è appunto il nostro ser reale ed immortale, noi non daremmo ad essa una così esagerata importanza, pur prendendone tutta la cura necessaria. Ordinariamente, quelli che sono qui da molto tempo non sembrano vecchi. Ne domandai il perché al maestro, ed egli mi rispose che, dopo qualche tempo, una persona vecchia dimentica di essere vecchia, che la tendenza è dividere giovani, che il corpo tende a prendere la forma da noi creata nella nostra mente e che la legge dell'equilibrio funziona qui come per ogni dove. Qui i fanciulli continuano a crescere ed essi possono anche raggiungere una specie di vecchiaia se tale è la loro fissazione, ma la tendenza è di raggiungere la maturità. Perciò si progredisce o si retrocede fino all'età migliore, per cui fermarsi, fino a che l'irevistibile attrazione della Terra si impossessi nuovamente di noi. Gran parte degli uomini e delle donne qui non sa di avere vissuto varie vite sulla Terra. Essi ricordano più o meno chiaramente la loro ultima vita, ma tutto quanto è venuto anteriormente sembra loro un sogno. Si dovrebbe sempre conservare la memoria del passato il più chiaramente possibile. Ciò aiuterebbe a edificare il futuro. Coloro che credono che i loro amici divengano morendo onniscienti resterebbero molto delusi se sapessero che la vita in queste regioni non è che una continuazione della vita terrestre. Se nel mondo fisico i pensieri e i desideri sono stati soltanto per i piaceri materiali, è probabile che i pensieri e i desideri siano qui gli stessi. Io ho incontrato dei veri santi da quando sono qui, ma essi erano stati uomini e donne che avevano coltivato durante la loro vita terrena l'ideale dei santi e che ora erano liberi di vivere in tali ideali. Qui la vita può essere totalmente libera. Non esiste quel meccanismo di vita che rende tanto schiavi gli abitanti della Terra. Nel nostro mondo un uomo è soggetto soltanto ai propri pensieri. Se essi sono liberi, egli è libero. Pochi però posseggono il mio spirito filosofico. Qui vi sono più santi che filosofi, perché l'ideale più alto di molte persone quando è intensamente attivo viene portato maggiormente verso la vita spirituale che verso quella filosofica. Io credo che gli esseri più felici da me incontrati in queste contrade siano i pittori. La nostra materia è così sottile, eterica e leggera e così facilmente malleabili che prontamente si plasma nelle forme volute dell'immaginazione. Qui vi sono dei quadri molto belli. Molti dei nostri artisti cercano di imprimere i loro quadri negli occhi mentali degli artisti della Terra e somente vi riescono. Scorga una grande gioia nel cuore di uno dei nostri vieri artisti quando un collega d'arte afferra una sua idea e la mette in esecuzione. Egli non sarà sempre capace di scorgere chiaramente la maggiore o la minor perfezione con cui costui traduce la sua idea, perché occorre una particolare facoltà o uno speciale allenamento per vedere da uno stato di materia in un altro, ma colui che produce l'ispirazione vede il riflesso della propria idea nella mente di colui che la riceve e sa che la sua concezione viene manifestata sulla Terra. Con i poeti avviene la stessa cosa. Vi sono delle liriche graziose le quali vengono composte qui e impresse nelle menti ricettive dei poeti terrestri. Un poeta mi diceva che era più facile produrre tale fatto con una poesia breve anziché con un poema eroico o con un dramma, i quali richiedono un lungo e prolungato sforzo. Per sa poco lo stesso si verifica con i musicisti. Ogni volta che voi vi recate ad un concerto dove viene eseguita buona musica, vi è probabilmente tutto intorno a voi una folla di spiriti amanti della musica che si inebria di melodia. La musica della Terra è molto gradita in quelle regioni ove può essere udita, ma nessun spirito desidera accostarsi ai luoghi dove si suona musica grossolana. Noi preferiamo la musica di strumenti a corda. Di tutte le cose terrestri, il suono è quello che più direttamente penetra in questo piano di vita. Ditelo ai musicisti. Se essi potessero soltanto udire la loro musica, quando io ero sulla Terra non comprendevo la musica, ma ora le mie orecchie cominciano ad assofarsi. Qualche volta sembrerebbe che voi dobbiate udire la nostra musica come noi facciamo con la vostra. Vi sarete domandata come io passo il mio tempo e dove vado. Vi è un grazioso sito nella campagna che non mi stanco mai di visitare. Esso si trova sul pendio di una montagna non molto lontano dalla mia città natia. Vi è una stradina che gira intorno alla collina e sul bordo vi è una capanna, o per meglio dire un recinto coperto da un tetto e con un'apertura in basso. Qualche volta mi fermo là per delle ore ed ascolto il mormorio del ruscello che scorre accanto alla strada. I grandi, sottili alberi sono divenuti come fratelli per me. Da principio non ero in grado di vedere gli alberi materiali tanto distintamente, ma mi reco nella prima piccola capanna la quale è costruita da tavole pulite e nuove, emananti un gradevole odore e mi riposo nella cuccietta situata lungo la parete. Allora chiudo gli occhi e faccio uno sforzo, cioè no, non è propriamente uno sforzo, ma una specie di impulso per mezzo del quale io posso vedere la bella località. Ma voi dovete sapere che ciò avviene di notte che io vedo per mezzo della luce che emana da me stesso. E' questo il motivo per cui noi viaggiamo nelle ore notturne, poiché alla brillante luce del sole noi non possiamo vedere nulla. La nostra luce rimane offuscata da quella più densa del sole. Una notte condussi con me il giovane Lionello, lasciandolo solo nella capanna mentre io mi allontanavo di qualche passo. Voltandomi indietro, vedi tutta la capanna illuminata da un delicato splendore, lo splendore di Lionello. La piccola costruzione del tetto, appunta, sembrava una perla illuminata dall'interno. Fu un'esperienza molto bella. Allora ritornai presso Lionello e gli dissi di recarsi a sua volta qualche passo lontano, mentre io prendevo posto nella capanna. Ero curioso di sapere se egli avrebbe visto lo stesso fenomeno, cioè se anche io avrei emanato lo stesso splendore attraverso la materia densa, ossia attraverso le tavole di cui era costruita la capanna. Quindi lo chiamai a me e, avendovi domandato se avesse visto nulla di strano, esclamò. Che uomo meraviglioso che siete, padre! Come avete fatto a far apparire quella capanna come se fosse incendiata? Allora fui convinto che io aveva visto la stessa cosa che avevo visto io, ma ora sono stanco e non posso continuare a scrivere. Buonanotte e possiate avere sogni gradevoli.